Una quindicina di multe al giorno, 29 servizi di ordine pubblico e solo una parte del bilancio dell'attività di un anno, il 2022, del Corpo di Polizia Municipale di Città di Castello. Una quindicina di multe al giorno, 29 servizi di ordine pubblico e solo una parte del bilancio dell'attività del 2022 del Corpo di Polizia Municipale. Alla centrale radio operativa le segnalazioni sono state 3.547, i documenti e gli oggetti rinvenuti invece 107, la richiesta di accesso alle immagini delle parti delle forze dell'ordine sono state una trentina. E il sistema comunale di videosorveglianza, allo stato attuale ci sono 69 telecamere installate e funzionanti dislocate su 30 siti. I controlli mirati all'accesso abusivo della zona traffico limitato ha portato a 5.738 violazioni, insensibile aumento rispetto ai dati del 2021 dove erano 4.959. I servizi di controllo di polizia stradale sono stati 179 per 1.452 violazioni, così suddivise 98 per il mancasto uso delle cinture, 26 per guida col telefonino, 41 per omessa precedenza, 64 per velocità e 5 per guida in stato di abrezza. L'utilizzo della strumentazione elettronica delle telelasere ha consentito agli agenti del corpo della polizia municipale l'accertamento di 226 infrazioni per superamento dei limiti di velocità consentiti. L'attività del controllo, a mezzo della parrocchiatura del cosiddetto Targa System, ha invece registrato 591 infrazioni per omessa revisione, 193 per mancata copertura assicurativa, 4 per documenti di guida ritirati e infine 3 per fermi amministrativi. Sono stati inoltre effettuati 29 servizi di ordine pubblico, congiuntamente con le altre forze dell'ordine, vale a dire polizia di stato, carabinieri e guardia di finanza. In ambito di ordine e sicurezza pubblica, tra i quali servizi per manifestazioni sportive, controlli del Covid-19, eventi a spettacoli pubblici. La Polizia Municipale ha effettuato anche 85 accertamenti sulla raccolta differenziata cittadina ed il corretto conferimento dei rifiuti. Ricordiamo che il comando di Polizia Municipale, al 31 dicembre, è costituito da un comandante Emanuele Mattei, due ufficiali, 18 agenti e due funzionali amministrativi.